Ebbene sì, è tornato anche lui. Tornato chi? Vinci chi? Indovina chi? Ma chi cazzo è? Che cazzo fai? Stiamo parlando del Vinci Salvini! Olè, seconda edizione. E allora signori, buonasera! Più mi piace metti, più veloce sei, più punti accumuli. In particolare per il cervello, sui vasi sanguigni che possono essere danneggiati. E fai punti anche su Twitter. E vai a cagare, questo lo devi fare. Che cosa si vince? Soldi zero. Ma i miei coglioni. Per i più fortunati addirittura una chiacchierata al telefono con me. Pensa te che premio incredibile. Attenti però, con i vincitori delle classifiche settimanali ci incontriamo. Pensa te che premio incredibile. Ci incontriamo di persona. Ma come ti ammazzo? Ma lei di Champions? Lo tronco porco di acqua. Iscriviti subito. Sì, no, mo me lo segno, bro. Vinciamo in tutta Europa. Con loro, con voi, con i rosiconi. Prima l'Italia.